La stagione a Marina di Ragusa sembra terminata ma in effetti non è così perché il bel tempo invoia ancora ad andare in spiaggia, a fare il bagno, a prendere il sole e i vacanzieri sono ancora numerosi, pochi turisti magari, ma molti ragusani che si trattengono a Marina. Questo non giustifica però, secondo il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Alessandro Antoci, una totale mancanza di attenzione legata alla manutenzione sulla spiaggia, anche solo per pochi appassionati che ancora vogliono godere delle bellezze del nostro mare, restano a Marina e usufruiscono dei servizi del litorale compresa la spiaggia. Proprio Antoci, già nelle scorse sedute del consiglio comunale, aveva sottolineato alcune criticità inerenti proprio alle docce sulle spiagge, evidenziando come non c'erano passerelle che unissero le pedane della doccia all'uscita della spiaggia alle scalinate. Inoltre il consigliere Antoci ha segnalato di aver chiesto un intervento della polizia locale, ma soprattutto degli operatori del presidio di protezione civile di Marina di Ragusa che hanno provveduto a eliminare alcuni pezzi danneggiati di pedane molto pericolosi per la gente e soprattutto per i bambini, sprovvisti della benché minima manutenzione e lasciati pericolosamente sulla spiaggia. Avevo sottolineato già nelle scorse sedute del consiglio comunale spiegantoci come ci fosse scarsa attenzione e segnatamente sulla spiaggia, questo episodio mi permette di rinnovare questa segnalazione, questa criticità. Nell'esprimere il massimo applauso per gli operatori del presidio della protezione civile e anche per la pattuglia della polizia municipale prontamente intervenuta, non posso esimermi dal rivolgere un appello accorato agli assessori al ramo e al sindaco per far sì che non vengono meno le attenzioni su Marina, soprattutto in questo finale di stagione, laddove le spiagge sono ancora frequentate. Quindi c'è motivo affinché i controlli e le siano effettuate nella giusta maniera. D'altra parte, per rimettere a posto una pedana non ci vuole granché, occorre solo buona volontà da parte di chi deve effettuare i controlli per assicurare una buona permanenza fino all'ultimo dei vacanzieri che vogliono godere del nostro mare. Ancora una volta, il consigliere Antosi sottolinea delle criticità grosse che non ci dovrebbero essere a Marina di Raguse e aggiunge, siamo costretti a occuparci di piccole cose di cose per cui basterebbero adeguati controlli per evitare brutti incidenti. La stagione è ancora viva e non è giusto non dedicare a Marina le dovute attenzioni.